Terrorismo è un concetto controverso. Questa lezione prende spunto da un testo in particolare che è quello del professor Benigno, che è questo testo, Terrore, Terrorismo, saggio storico sulla violenza politica, e anche dal testo di Domenico Tosini intitolato Terrorismo e antiterrorismo nel XXI secolo. Mentre il primo è un testo di storia che affronta la storia e la nascita del controverso concetto di terrorismo, il secondo è un testo di uno scienziato sociale, perché Tosini insegna sociologia all'Università di Trento, mentre invece il professor Benigno è uno storico, in particolare uno storico modernista, quindi dell'età moderna. Proprio nel testo di Benigno c'è un riferimento a un bellissimo passaggio di questo testo di Joseph Conrad intitolato L'agente segreto, un bellissimo romanzo che tratta di questi circoli anarchici pieni di aspiranti bombaroli o attentatori, manipolati tra l'altro da uomini privi di scrupoli dei governi, con tradimenti, con figure poco chiare, ambigue, anche di una certa piccolezza borghese, per certi versi, o piccolo borghese se preferiamo. Carl Hund, uno di questi terroristi, protagonisti, che si muovono in questa Londra plumbea e fumosa, dice, definendosi lui stesso un vecchio terrorista, «Ho sempre sognato un pugno di uomini incrollabili nella decisione di bandire ogni scrupolo nella scelta dei mezzi, abbastanza forti per autoproclamarsi francamente distruttori, spogli della venatura di pessimismo rassegnato che mina il mondo alle radici. Nessuna pietà per nessuna cosa, nemmeno per se stessi, e la morte finalmente messa al servizio del genere umano». Ecco cosa avrei voluto vedere. Nel corso del romanzo di Conrad ci sono delineate alcune figure come Michaelis o il signor Verloch, tutte figure di complottatori molto interessanti, molto intriganti, che però trasmettono bene il senso di una mentalità un po' cospiratrice dei gruppi terroristi. In questo caso stiamo parlando dell'Ombra dei primi del Novecento. Venendo a una definizione che possa tenere tutto assieme, si utilizza quella di Walter Laker, che era uno dei primi studiosi di terrorismo che ha lavorato nel corso degli anni Settanta, e la definizione di Walter Laker è, riguardo al terrorismo, impiego o minaccia dell'impiego della violenza per uno scopo politico. Però è del tutto evidente che questa definizione genera disagio, soprattutto in alcuni settori magari istituzionali, perché così anche una guerra normale, tra virgolette, dichiarata da uno Stato o un altro Stato, potrebbe rientrare in questa definizione, quindi potrebbe rientrare nella definizione di terrorismo. E se noi ricordiamo bene, molto spesso quando ci sono manifestazioni pacifiste, gruppi di pacifisti militanti che vengono accusati, perché non vogliono, penso, alle ultime azioni dell'amministrazione Bush, le guerre in Iraq o in Afghanistan, ovviamente chi si muove per la pace viene subito schiacciato da un fronte sull'altro fronte, quindi venivano accusati i pacifisti di essere coevi ai terroristi. E gli Stati non sono terroristi, sono qualcosa di diverso, rendono conto delle loro azioni, non perseguono i civili, eccetera, eccetera. Ma questo, mettendosi su questa china, si troveranno un sacco di autori, uno su tutti, Noam Chomsky, che quasi con divertimento metteva insieme tutta una serie di azioni degli Stati Uniti per definire gli Stati Uniti l'unico vero stato terrorista della storia. Tornando alla parola, e quindi avvalendoci un pochino del testo del professor Benigno, terrore deriva dalla parola latina terror, che significava tremare, sostanzialmente l'atto del tremare, poi assunse un significato diverso, stato emotivo, diciamo, di estrema paura. Nel corso della rivoluzione francese va assumendo il significato che, appunto, Hegel, ma anche teorici come Edmund Burke, che erano contro la rivoluzione francese, definirono appunto l'epoca del terrore, i governi del terrore. Si parla del 1793-1794, con le teste tagliate degli oppositori, e da questo momento, che quindi la parola latina in trascrizione diventa traducibile, intrascritta in francese, terroreur, e il paradosso anche è che noi abbiamo il terrore come effetto, o che viene immediatamente dopo la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. Quindi c'è una sorta di polarità, ma l'evento, l'evento rivoluzionario, è lo stesso, e comprende ambedue le fasi, quella della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1789 e poi quella del terrore del 93-94. Quindi con terrore si disegnava, diciamo qui ci viene in soccorso benigno, il terrore disegnava tre cose sostanzialmente. Uno, la legislazione speciale promulgata nel corso del 1793-94, con la quale era possibile sottoporre gli avversari a procedura giudiziaria sommaria, una cosa che si è vista molto spesso dopo le rivoluzioni, penso ai comitè inaugurati dai comeinisti dopo la rivoluzione in Iran, che facevano processi in piazza, ma anche perché no, nella Cuba di Fidel Castro a un certo punto, vinta la rivoluzione, si facevano i processi in piazza. Secondo significato, si intendeva l'attività repressiva posta in atto contro la rivolta federalista, ispirata dai girondini, una fazione diciamo non gradita ai giacobini. Terzo significato, terzo utilizzo del termine, connesso alla durata e alla procedura di attuazione di leggi straordinarie. Ora, il terrorismo può anche essere considerato una prosecuzione, e di fatto lo è sempre una prosecuzione della politica con altri mezzi, è un metodo adottato dal nazionalismo democratico, qualora privato del suo scopo, quando il colpo di mano, diciamo teorizzato, è sempre praticato da gruppi ristretti che vogliono, diventa il surrogato volontaristico di rivoluzioni inesistenti, cioè per intenderci una piccola minoranza pensa con queste azioni di svegliare le azioni di vaste masse, e così spesso è caduto nella storia. Anche un terrorismo più recente come quello delle brigate rosse in Italia, un terrorismo di sinistra, sperava che si scatenasse una rivoluzione in Italia e che ovviamente il partito comunista con la sua moderazione, la sua attenzione alle istituzioni, venisse scavalcato dalle masse, a eccezione della versione anarchica, che ne è l'alternativa speculare, come rifiuto radicale dello Stato-nazione, qui siamo in riferimento al terrorismo di stampo nazionalistico, o anche patriottico, se vogliamo inquadrarlo, quello dell'epoca ottocentesca, ma fino agli anni Ottanta il terrorismo è stato praticamente, esclusivamente praticato, diciamo da coloro che avrebbero voluto affermare presunti diritti storici di una data nazione, senza averne i mezzi, e possiamo pensare al terrorismo basco, a quello nord-irlandese, e molti altri, perfino azioni terroristiche croate negli anni 70, prima della disgregazione della Jugoslavia. C'è un bellissimo passo citato da Benigno, tratto dall'opera di questo Carlo Bianco di Saint-Gioriot, che era un membro che poi divenne mazziniano, seguì i mazzini, autore di questa guerra nazionale di insurrezione per bande, un trattato. Osserva che occorre combattere fino allo sterminio completo dei nemici, perché in seguito, alzato lo scudo delle libertà riconquistate, non sarebbe più possibile liberarsi dei nemici. Il terrore serve a purificare la nazione, in tal modo rigenerandola, per questo il condottiero che deve guidare la guerra di liberazione, dovrà essere disposto a praticare una giustizia arbitraria e sommaria, la quale, evitando una moderazione dannosa e inopportuna, metta in conto come male minore e l'esecuzione anche di qualche innocente. Per questi motivi la guerra per bande, non rispetta le tradizionali regole e convenzioni dei conflitti militari ordinari, è una guerra terribile perché subordina ogni cosa a un fine superiore sacrosanto. Riecheggiano in questa citazione alcuni passaggi del principe di Machiavelli, quando dice che il nuovo principe quando arriva deve fare tabula rasa di tutti coloro che precedentemente avevano potere in un determinato principato. Mazzini, che pure era un patriota molto appassionato, negava o comunque rigettava il terrore, però non dava una motivazione morale, ma spiegava semplicemente che la situazione della Francia era diversa rispetto a quella italiana, la Francia del 1793. Quella era appunto un'azione che era onnipotente sulle moltitudini, l'impresa dei mille tra l'altro sarà particolare, lancerà l'internazionalismo tipicamente di sinistra, perché vi parteciparono tedeschi, francesi, polacchi, italiani, che lottavano per l'indipendenza italiana. E questo primo internazionalismo ebbe un forte influsso sulla sinistra italiana. Nel resto d'Europa alcuni credevano che la rivoluzione potesse iniziare semplicemente con un attentato o con un colpo di pugnale, mentre invece Mazzini manteneva fermo il fatto che dovesse essere un fenomeno di moltitudini, un fenomeno di popolo. Se la violenza terroristica quindi è rivolta contro i civili o persone non in combattimento, allora il terrorismo di Stato non potrebbe essere escluso. Vi è poi la natura anche del gruppo terroristico, perché poi qui possono entrare in gioco molte classificazioni, possiamo assimilarlo a un movimento sociale, politico quindi, ma alcuni gruppi adottano una strategia terroristica soltanto perché non solo non hanno una grande attrezzatura bellica, quindi non possono fare una guerra regolare, ma soprattutto perché non riescono a suscitare, a guidare movimenti di massa. C'è una famosa tesi di Gilles Keppel, un esperto di Islam, che dice che i fenomeni di violenza nel mondo islamico erano determinati proprio dal fatto che non si riusciva, diede addirittura questa giustificazione dell'11 settembre, gli stati, diciamo, nell'Islam, gli integralisti islamici, diciamo, non riuscivano a costruire un loro Stato, a partire dall'ultimo colpo ben assestato, che era la rivoluzione del 79 in Iran, che portò al potere Khomeini e i turbanti neri, gli Ayatollah, quindi religiosi, e tutti i tentativi degli altri gruppi, da lì in poi, non ebbero mai successo. Abbiamo avuto uno Stato, quando abbiamo visto il sorgere dell'Isis. Vi sono poi due variabili con cui si può analizzare il terrorismo, che sono gli obiettivi politici, che sono mediamente nazionalistici, rivoluzionari, vigilanti simbolici e anche monotematici, pensiamo agli attentati contro le cliniche che praticavano un'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti, oppure i gruppi, diciamo, a difesa della natura o dei gruppi animalisti, perché ci sono una miriade di sigle e di gruppi terroristi, diciamo, che attuano il terrore per diversi obiettivi. E poi anche la questione che riguarda più il contesto, la natura della frattura o della divisione sociale, che può essere etnica, etnico-religiosa, ideologica, molto più del passato, che oppone i gruppi ai loro avversari. Per concludere questa anticipazione, questa riflessione sul terrorismo, che poi sarà possibile approfondire guardando i testi, ascoltando i due autori, una frase del giurista tedesco Karl Schmitt, un giurista molto importante, brillantissimo, ma, ahimè, pesantemente compromesso con il regime nazista, anche se poi ne uscì, credo anche processato l'Olimberga, ma assolto, se non ricordo male, ogni contrasto religioso, morale, economico, etnico, di altro tipo, si trasforma in un contrasto politico, se è abbastanza forte da raggruppare effettivamente gli uomini in amici e nemici. Una comunità religiosa che come tale porta a guerra sia contro gli appartenenti ad altre comunità, sia in altro modo, è, oltre che una comunità religiosa, una comunità politica. Anche una classe in senso marxista cessa di essere qualcosa di puramente economico e diventa un'entità politica se giunge a questo punto decisivo, se cioè prende sul serio la lotta di classe e tratta l'avversario di classe come un nemico, un nemico reale e lo combatte, sia come Stato contro Stato, sia nella guerra civile all'interno di uno Stato. Questo è un bellissimo pezzo tratto dalle categorie del politico. Grazie a tutti.